la mattinata è a vede come relatori la professoressa elisa maria pazzi che saluto buongiorno professoressa e il professor giovanni buccino professoressa maria pazzi elisa è ordinario e direttore dell'unità operativa neuropsichiatria di brescia della dell'infanzia e dell'adolescenza e anche il nuovo presidente della società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia dell'adolescenza recentemente incaricata come presidente perciò le facciamo i nostri complimenti e auguri di buon lavoro e da sempre un punto di riferimento per i suoi studi per la sua docenza universitaria prima all'università di pavia e poi in brescia e autrice di numerose pubblicazioni responsabile di diverse ricerche nel campo del sviluppo neuropsichiatrico infantile e membro di numerose società scientifiche italiane e internazionali ma soprattutto ringraziamo il professor giovanni buccino che questa mattina è qui con noi e che terrà la prolusione scientifica accolto il nostro invito è professore ordinario di fisiologia dell'università del san raffaele neurologo e studioso da trent'anni del sistema nervoso e presente in numerosi team e campi di ricerca sulle quali sono state realizzate numerose pubblicazioni il team di scienziati che ha scoperto l'esistenza dei neuroni a specchio l'ha visto partecipe perciò direi che onoriamo questa mattinata di lezione lincea sulla scienza con i protagonisti di queste grandi conoscenze io ho l'immenso piacere di introdurre questo tema che ci porta a delle riflessioni che risalgono ormai a quasi trent'anni fa fino ai primi anni novanta si riteneva che il sistema motorio fosse costituito da tre aree principali situate nel logo frontale c'era un'area motoria primaria un'area premotoria e un'area motoria supplementare l'area motoria primaria aveva la funzione di eseguire i movimenti mentre le aree premotorie e le aree supplementari avevano un ruolo nella programmazione e nella preparazione del movimento e dell'immaginazione motoria negli ultimi da a partire dai primi anni novanta l'equip capitanata dal professor rizzolati di cui il nostro oratore ha fatto ha fatto parte ha condotto degli studi che hanno veramente rinnovato in qualche modo l'immagine e le nostre conoscenze sul sistema motorio studi dapprima condotti sulla scimmia e poi condotti anche nell'uomo e quindi c'è stata la scoperta di queste nuove funzioni che anche i neuroni motori potevano avere quindi queste recenti evidenze sperimentali hanno supportato la nozione che il sistema motorio non svolge solo un ruolo nella programmazione e nell'esecuzione delle azioni ma anche un ruolo specifico nella comprensione delle azioni soprattutto se eseguite da altri esseri umani quindi questa comprensione delle azioni è significativa e importante non tanto se è legata alle azioni di un essere inanimato all'osservazione di un movimento di un velivolo di un animale di qualunque altro movimento ma un movimento eseguito da un altro essere umano e che porta anche alla comprensione della delle intenzioni che sottendono a questo movimento quindi a questa nuova visione del sistema motorio hanno ha contribuito questa scoperta dei neuroni specchio che è una delle scoperte delle neuroscienze più significative degli ultimi decenni. Questo neuroni specchio sono stati identificati dal team del professore Rizzolati all'Università di Parma e appunto il professor Buccino che è il nostro relatore è come ho già detto è stato membro di questo team e ha avuto la fortuna e come dire credo di partecipare in modo così emozionante a questa scoperta. Professor Giovanni Buccino si è laureato all'Università di Parma e si è specializzato in neurologia e poi ha condotto quindi è un medico e neurologo e poi ha condotto il suo dottorato di ricerca proprio all'Istituto di Neuroscienze diretto dal professor Rizzolati ed è lì che ha partecipato alla scoperta dell'esistenza dei neuroni mirror anche nell'uomo e penso di questa storia ci parlerà in modo più diffuso. Ha svolto poi numerose anche un periodo molto prolungato di attività scientifiche di ricerca all'estero in particolare in Germania sotto la Busseldorf sotto la direzione e la supervisione del professor Freund e del professor Zill e dopo alcune esperienze di ricercatore sia presso l'Università di Parma che presso l'Università della Magna Grecia da alcuni anni ormai è professore ordinario di fisiologia presso l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Come ha detto la professoressa Bisleri è autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali e anche come dire ha teorizzato un'applicazione clinica del sistema mirror nella riabilitazione ed è proprio questa action observation treatment cioè un trattamento riabilitativo basato sull'osservazione delle azioni che ha innovato profondamente anche la nostra pratica riabilitativa. Questo metodo è quello che noi applichiamo presso la neuropsichiatria infantile della nostra ospedale della nostra università e di cui abbiamo pubblicato alcuni contributi su riviste internazionali e che stanno ci stanno permettendo di portare avanti una prospettiva innovativa nella riabilitazione delle lesioni neurologiche in età evolutiva. Quindi è con grande piacere e interesse e per tutte le ragioni che ho cercato di raccontare e quindi do la parola al professor Buccino unendomi ai ringraziamenti della dottoressa Bisleri per la sua disponibilità a partecipare a questa lezione e quindi gli do la parola e avrò il piacere insieme a tutti voi di ascoltarlo. Prego professor Buccino, prego Giovanni. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi e grazie per queste belle parole che la professoressa Fazzi ha voluto premettere alla relazione e grazie perché sono le parole di una persona con cui, come ha ricordato lei stessa, sto collaborando da anni e quindi sono anche le parole di una persona amica, oltre che collega e sicuramente collaboratrice in questo percorso che ha indicato. Bene, penso che sia giusto ricordare che questa lezione è possibile in gran parte davvero per i contributi che alle neuroscienze ha dato il mio maestro che oggi non può essere presente ma a cui va il nostro pensiero davvero con gratitudine e affetto perché è da lui che ho imparato i ferri del mestiere, che ho imparato come dire il metodo e il rigore del metodo scientifico e quindi direi che le cose di cui parleremo oggi sono anche sicuramente legate al suo contributo anche quando, ripeto, non erano cose che lo hanno visto coinvolto in prima persona ma davvero è la persona che ha dato il là al cambiamento che la professoressa Fazzi accennava sulla nostra concezione del sistema motorio e vedremo e spero durante questo percorso di darvi quelli che sono gli elementi di novità venuti fuori negli ultimi trent'anni e che ci hanno consentito di fare enormi passi avanti sia nella comprensione delle relazioni empatiche, come suggerisce il titolo, sia nella comprensione delle funzioni cognitive. Come dicevamo questa storia nasce circa trent'anni fa proprio con le scoperte del professor Rizzolatti condotte a Parma che hanno di fatto cambiato totalmente la nostra concezione del sistema motorio perché il sistema motorio come ricordava la professoressa Fazzi era considerato come un sistema molto semplice direi quasi banale nel senso che l'idea che si aveva del sistema motorio fino a trent'anni fa e che esso fosse coinvolto fondamentalmente nella esecuzione dei movimenti ma nel fare questo il sistema motorio di fatto era subordinato a tutta una serie di altre aree nel cervello che in qualche modo avevano il compito di organizzare la nostra conoscenza del mondo e invece sappiamo oggi che il sistema motorio fa molto di più perché il sistema motorio è in grado di rapportarci con il mondo di farci fare esperienza del mondo e quindi di renderne possibile la comprensione. I nuclei di questa di questo percorso saranno fondamentalmente tre presenterò all'inizio alcuni dati che hanno cambiato ripeto la nostra visione del sistema motorio vedremo poi come secondo nucleo gli elementi che ci consentono di pensare al sistema motorio come fondamentale nella relazione empatica perché cioè siamo passati da un modello in cui l'empatia era legata a aree a nuclei fondamentali del nostro cervello ad una relazione invece che ci mette in diretto contatto con con gli altri e quindi rende possibile quella che con una parola tedesca è un po difficilotta ma insomma è il caso di ricordarla ci consente e ci dà la possibilità di metterci nei panni degli altri la cosiddetta Einfühlungsvermogen cioè la possibilità proprio di sentire con l'altro e terzo punto vedremo come da questa nuova visione del sistema motorio e delle relazioni empatiche possiamo anche pensare a un nuovo modo di concepire le funzioni cognitive non più legate ad aree che del cervello che una volta venivano considerate come associative cognitive superiori ma strettamente legate anche alle nostre esperienze sensoriali e motorie ecco rispetto a quanto vi ha già presentato la professoressa fazzi vedete che il sistema motorio è decisamente più complesso eviterò naturalmente il linguaggio anatomico e fisiologico ma teniamo presente che come potete vedere ecco ci sono diverse aree nella in questa parte del sistema nervoso diverse parti del sistema motorio in questa parte del cervello che è il lobo frontale e vedete che le aree sono tante e in queste aree il corpo il nostro corpo i vari segmenti che ci consentono il movimento quindi le braccia i piedi gli arti inferiori il tronco sono vedete rappresentate diverse volte e la cosa ancora più interessante è che queste aree del del lobo frontale parlano con altrettante aree del lobo parietale tendentemente soprattutto questo percorso quello che va da un'area che come vedete si chiama hype all'area f5 che è un'area del sistema motorio tra quelle più recentemente identificate teniamo la mente perché queste aree sono diventate un pochino il modello di come sia cambiato nel corso del tempo la nostra concezione del sistema motorio perché perché nell'area f5 cioè in quest'area che vedete qui rappresentata nella in questo questo schizzo del cervello sono stati identificati ed è stato proprio il professor rizzolati a farlo dei neuroni particolari sapete che i neuroni sono le cellule che costituiscono il sistema nervoso e questi neuroni sono molto particolari perché come vedete qui si attivano ecco pensate a queste barre come a tutta una serie di attività che si svolgono nel neurone quando il neurone è attivo e vedete che in questo caso il neurone risponde ed è attivo quando l'animale prende un pezzo di cibo quindi è un'azione che ha un suo goal che ha un suo scopo e che ha un suo una sua precisa contestualizzazione nella seconda parte della diapositiva in questa parte a sinistra vedete che la stessa attività si svolge quando l'animale compie l'azione con la mano controlaterale quindi rappresentazione bilaterale di azioni finalizzate perché è una novità questa teniamo conto che lo studio risale a circa 30 anni fa perché è una grossa novità questa scoperta perché fino a quel momento si pensava che nel sistema motorio fossero fatti dei movimenti molto semplici per esempio flettere un dito o estenderlo quindi erano rappresentazioni di movimenti assolutamente semplici legati alla funzione di un specifico muscolo e invece vedete che viene fuori da subito l'idea che nel sistema motorio siano rappresentate azioni complesse che sono in grado di farci raggiungere uno scopo in questo caso prendere un pezzo di cibo ma la cosa ancora più interessante è che dopo qualche anno dalla scoperta di questi neuroni è venuto fuori che alcuni di essi e parliamo sempre dei neuroni dell'area f5 avevano anche proprietà insolite per l'area motoria perché l'area motoria come dicevamo aveva la funzione semplicemente di eseguire le azioni questo almeno era quello che si riteneva invece lo studio dettagliato di questi neuroni ha portato a scoprire anche un'altra importante proprietà di di essi e cioè il fatto che alcuni di questi neuroni rispondano anche nel corso della osservazione di alcuni oggetti oppure come diremo più tardi nel corso della osservazione di altre azioni ora andiamo un attimo per ordine sono neuroni nell'area f5 che rispondono quando per esempio l'animale prende un oggetto lo vedete in questo caso c'è la prensione di un oggetto che è questo anello la cosa interessante è che vi basta presentare l'anello quindi semplicemente l'oggetto senza che l'animale compia l'azione perché ci sia ancora una attivazione ricordate le barre rappresentano il fatto che il neurone in questo momento è attivo e vedete che anche in questa situazione ci sono tante barre per cui basta l'osservazione dell'oggetto perché il neurone sia attivo e allora secondo elemento di novità è che nell'area f5 ci sono anche neuroni con proprietà visive questi neuroni in particolare tenete a mente il nome cioè quelli che rispondono nel corso della osservazione di un oggetto oltre che nel corso della esecuzione di un'azione prendono il nome di neuroni canonici poi un secondo gruppo di neuroni che sono quelli che hanno avuto una maggiore fortuna e di cui probabilmente avete sentito parlare perché se ne parla spesso sui sui giornali anche di divulgazione sono i neuroni specchio i neuroni specchio hanno una caratteristica ancora più importante dal punto di vista visivo perché questi neuroni non soltanto sono attivi nel corso della esecuzione dell'azione ma fatto interessante rispondono anche quando l'animale osserva un altro individuo che può essere un individuo della stessa specie quindi in questo caso questi studi sono stati condotti nelle scimmie e quindi se la scimmietta vede un altro animale un altro individuo che fa esattamente l'azione che compie o che è legata all'attività di questo specifico neurone ebbene c'è ancora in questo neurone una attività che è legata proprio alla visione dell'azione ma questo succede anche quando l'animale osserva per esempio un individuo umano se ci mettiamo di fronte ad una scimmietta e svolgiamo delle azioni che sono quelle che anche la scimmia sa fare ecco che il cervello dell'animale comincia ad attivarsi a risuonare grazie alla presenza di questi neuroni che abbiamo chiamato neuroni specchio neuroni specchio ricordiamoci significa proprio che il neurone è in grado di rispecchiare l'attività dell'altro quindi l'altro è come se entrasse in una sorta di specchio che è dentro il nostro cervello e cosa ancora più interessante alcuni di questi neuroni e lo ricorderemo poi nella parte finale della del nostro percorso quando parleremo delle funzioni cognitive alcuni di questi neuroni rispondono non soltanto quando l'animale osserva le azioni eseguite dagli altri individui ma anche quando l'animale ascolta le azioni eseguite dagli altri individui perché sapete benissimo che ci sono alcune azioni che hanno e si associano a rumori tipici pensate per esempio alla manipolazione di un mazzo di chiavi ecco se siamo in grado di riconoscere il rumore tipico associato ad un'azione è proprio perché alcuni dei neuroni specchio oltre ad essere in grado di riconoscere l'azione osservata sono anche in grado di riconoscere il rumore che tipicamente si associa a quell'azione e lo vedete qui qui ci sono degli esempi di neuroni che rispondono esse sta per sound quindi per rumore rispondono quando per esempio l'animale sente un uno sperimentatore che per esempio strappi un pezzo di carta o per esempio che spezzi uno stecchetto quelli che abbiamo mangiato quelli che abbiamo utilizzato tante volte mangiando gelati bene quindi nella nel cervello nel sistema motorio non c'è soltanto l'esecuzione dell'azione ma c'è anche l'azione che viene riconosciuta quando viene osservata c'è anche l'azione che viene riconosciuta quando viene ascoltata e capite che siamo già arrivati a una a un modo di vedere il sistema motorio decisamente più complesso di quello dal quale siamo partiti perché siamo partiti da un sistema che semplicemente esegue movimenti semplici e invece siamo già arrivati nell'animale a un sistema che consente di riconoscere le azioni fatte dagli altri sia quando vengono presentate visivamente sia quando vengono presentate attraverso il loro rumore tipico in generale nella scienza è sempre molto difficile paragonare i dati risultati che si ottengono i dati che si ottengono nell'animale e poi trasferirli alla al cervello umano nel caso del sistema di questi neuroni di questi neuroni specchio il passaggio devo dire che è stato abbastanza immediato perché dopo qualche anno dalla scoperta dei neuroni specchio nell'animale che si deve appunto al gruppo del professor rizzolatti è stato visto che anche nell'uomo nel cervello dell'uomo c'è qualcosa di molto simile non parleremo più di neuroni specchio ma più propriamente di un meccanismo di neuroni specchio quindi di una attività di neuroni che presumibilmente sono molto vicini a quelli identificati nell'animale che cosa succede nell'uomo quando si osservano delle azioni eseguite da altri individui ecco è uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa ormai vent'anni fa devo dire chiedendo proprio a degli studenti di osservare diversi filmati in una macchina che prende il nome di risonanza magnetica funzionale questa macchina ci consente di fotografare di avere un'immagine dell'attività del cervello quando si esegue un determinato compito e il compito che i nostri studenti dovevano svolgere era quello di osservare delle azioni azioni che potevano essere eseguite con la mano quindi prendere per esempio oppure manipolare una pallina con il piede premere un pedale dare un calcio a un pallone pure con la bocca mangiare essenzialmente masticare e la cosa interessante che abbiamo visto è che i soggetti quando i nostri studenti osservavano queste azioni si attivano vedete delle parti del cervello che sono le stesse nelle quali nell'animale o omologhe meglio rispetto a quelle nelle quali nell'animale sono stati identificati i neuroni specchio allora vedete queste aree non entrerò evidentemente nei dettagli anatomici ma questa è la parte del cervello che è il lobo frontale e vedete che nel corso dell'osservazione delle azioni di bocca si attiva proprio questa parte del cervello che coincide con le aree motorie o più precisamente premotorie questo è quello che succede quando si osservano le azioni fatte con la mano e questo è quello che si vede nel cervello quando si osservano le azioni fatte con il piede e dunque fatto assolutamente interessante per l'epoca nella quale abbiamo fatto questo studio si evidenziava che anche nell'uomo osservare le azioni comporta un'attivazione del sistema motorio quindi il sistema motorio dell'uomo come quello dell'animale non è fatto soltanto per eseguire ma è fatto anche per osservare e riconoscere le azioni degli altri questo è un fatto molto interessante perché perché se attiviamo nel corso della osservazione le aree del cervello che ci consentono di muoverci e di eseguire l'azione e allora capite bene che si crea tra me e l'altro un link un nesso immediato perché perché io posso riconoscere quello che l'altro l'altro individuo sta facendo perché conosco dall'interno la storia cioè come se quando un altro soggetto un altro individuo prende una tazza di caffè piuttosto che il cappuccino poiché nel mio cervello si attivano esattamente le aree che mi fanno prendere il cappuccino io so perfettamente che cosa sta succedendo e probabilmente riesco anche a interpretare qualcosa di più dell'altro cioè posso comprendere per esempio che quel soggetto che quell'individuo in quel momento ha bisogno di una tazza di caffè ha un bisogno di prendere un cappuccino o quello che preferite ma la stessa cosa vale per giocare a pallone vale per suonare la chitarra e così via abbiamo cominciato a creare un link con l'altro perché perché il nostro cervello si accende quando gli altri seguono le cose e noi conosciamo e abbiamo conoscenza di queste cose dall'interno ma fino a che punto questo nesso è importante e valido fino a che punto entra in gioco nella nostra capacità di riconoscere le azioni le nostre esperienze questo è un fatto importante perché evidentemente non tutti abbiamo le stesse esperienze motorie e allora in uno studio successivo ci siamo chiesti proprio questo che cosa succede quando osserviamo delle azioni che in qualche modo sono a noi familiari e che cosa succede invece quando osserviamo azioni che non sono familiari e quindi abbiamo presentato in quest'altro studio delle dei video in cui c'era un uomo poteva esserci una scimmia oppure un cane che masticano e come confronto abbiamo considerato invece situazioni che sono meno comuni in questo caso per esempio il lip smacking della della scimmia è un gesto di protrusione che senz'altro avete visto in qualche documentario televisivo perché il modo in cui le scimmie in qualche modo si parlano e stabiliscono relazioni affiliative è una protrusione delle labbra che sicuramente avete apprezzato su qualche testo di biologia piuttosto che ripeto in un documentario oppure la bagnare del cane che ci è familiare e che cosa è venuto fuori da questo studio beh riconoscete a questo punto le attivazioni nel cervello vedete che se si tratta di riconoscere un'azione come masticare sostanzialmente nel nostro cervello si attivano le stesse aree sia quando a masticare un uomo sia quando a masticare una scimmia sia quando a masticare un cane ma è diversa la situazione invece quando andiamo a considerare quest'altre queste altre azioni cioè la il parlare in modo silente dell'uomo il lip smacking che vi dicevo prima della scimmia e l'abbaiare del cane vedete che quando osserviamo un uomo che parla anche se in modo silente c'è una bella attivazione nel nostro cervello cioè qualcosa che ci appartiene che ci è familiare risuoniamo come diciamo in gergo ma invece se la scimmia a svolgere il lip smacking oppure il cane ad abbaiare vedete che in questa parte del cervello nel nostro cervello motorio non c'è questa risonanza perché perché evidentemente non riusciamo a condividere quella esperienza possiamo farcene un'idea ma non è la nostra esperienza motoria quindi in qualche modo la nostra capacità di entrare in relazione con l'altro è anche legata alla nostra esperienza motoria e che questo sia vero ce lo dice anche un altro studio dove abbiamo visto e ci siamo chiesti che cosa succede quando dobbiamo imparare delle cose nuove e quindi arricchire il nostro repertorio ecco in questo caso abbiamo chiesto agli studenti di imparare degli accordi fatti sulla chitarra nel corso di uno studio fatto con la risonanza magnetica funzionale e che cosa è successo è successo che sicuramente quando si chiede di apprendere un compito nuovo vedete che nel nostro cervello si attivano quelle aree che ormai riconoscete essere quelle dove anche nell'animale sono stati descritti i neuroni specchio ma non basta ci vuole qualcosina in più quando dobbiamo imparare delle cose nuove ci vuole una nuova area che è quella che vedete qua questa è un'area del cervello che si trova in un'altra porzione che prende il nome più precisamente di lobo prefrontale non voglio appesantirvi troppo però ricordiamoci si trova in una parte che è anteriore rispetto a quella dove sono state descritte le aree motorie e quest'area serve proprio questa regione prefrontale lo vedete qui l'attivazione serve proprio per consentirci di ricombinare in con soluzioni nuove quello che sappiamo già fare per poter aggiungere degli delle competenze motorie che non abbiamo già quindi in questo caso suonare la chitarra ma pensate a chi deve apprendere a stare sulle punte perché decide di fare il ballerino pensate al pianista che deve imparare a suonare il piano e così via bene tutte le volte che dobbiamo imparare delle cose nuove sicuramente ci serve il sistema dei neuroni specchio come viene definito spesso quindi questo meccanismo di risonanza che ci fa riconoscere le azioni ma ci serve anche qualcosa di in più questa attività prefrontale che è quella che riorganizza le nostre competenze in qualcosa di nuovo e ci fa apprendere quello che non sappiamo ancora fare e allora se mettiamo insieme tutte queste evidenze quello che viene fuori è che il sistema motorio non è soltanto un sistema che esegue ma è un sistema che ci serve per riconoscere le azioni degli altri è un sistema che ci serve per imparare cose nuove ed è anche un sistema che ci serve quando vogliamo immaginare delle nuove azioni o meglio quando vogliamo immaginare le competenze che abbiamo già e allora il sistema motorio lo vedete bene in questo studio che è stato condotto qualche anno fa e che ha raccolto tutti i dati che ci sono sull'argomento quello che viene fuori è che vedete immaginare l'azione osservarla e riconoscerla o anche semplicemente eseguirla coinvolge esattamente le stesse aree e queste aree sono quelle in gran parte dove nella scimmia sono stati identificati dei neuroni specchio quindi la scoperta dei neuroni specchio ha aperto nuove prospettive nella nostra concezione del delle funzioni motorie e il sistema motorio è qualcosa che ci consente non soltanto di eseguire ma anche di immaginare di osservare e di riconoscere le azioni fatte dagli altri possiamo sicuramente ben concludere con una osservazione che non viene dalle neuroscienze perché una intuizione in questa direzione cioè il fatto che il sistema del sistema motorio fosse coinvolto anche in altri aspetti della vita che non fossero semplicemente l'esecuzione dell'azione viene già fuori da alcuni autori che non appartengono strettamente al mondo delle neuroscienze e mi piace ricordare questo pensiero della Montessori che come sapete è stata una delle prime donne medico se non la prima donna medico in Italia e che si è dedicata poi nella sua vita alla riabilitazione e allo studio dei bimbi con dei problemi di apprendimento bene la Montessori scrive esplicitamente in uno dei suoi testi che il movimento e forse a questo punto noi potremmo dire l'azione è espressione dell'io ma soprattutto scrive la Montessori è un fattore indispensabile per la costruzione della coscienza perché questo forse potremmo dire anche per la costruzione dell'intelligenza e perché questo perché il movimento o meglio l'azione è l'unico mezzo tangibile che pone l'io in relazione con il mondo esterno e quindi il movimento è fattore essenziale per la costruzione dell'intelligenza che si alimenta e vive scrive la Montessori di acquisizioni ottenute dall'ambiente esteriore come dire che è bello vedere su un testo la Torre Eiffel ma se vogliamo farcene un'idea e se vogliamo avere in qualche modo un'esperienza beh allora dobbiamo introdurre l'azione dobbiamo muovere prendere un aereo andare a Parigi e possibilmente vederla in prima persona l'esperienza motoria ci arricchisce e non è semplicemente il movimento ma serve a costruire l'intelligenza e la coscienza e allora da tutto questo viene fuori il secondo aspetto che mi piaceva introdurre cioè la relazione empatica perché il movimento e l'azione sono così importanti nella relazione empatica ancora una volta uno spunto ci viene non dalle neuroscienze ma ci viene da un autore che avete studiato in altri ambiti nell'economia nella filosofia cioè Adam Smith che come sapete è il padre del liberismo economico bene Adam Smith nella sua opera The Theory of Moral Sentiments affronta un pochino il problema di come riusciamo a costruire la relazione empatica e si dà una risposta che è molto neuroscientifica perché a un certo punto lui dice noi entriamo nella nei panni dell'altro e quindi riusciamo a condividere le esperienze dei nostri eroi in letteratura e i loro amici diventano i nostri amici e i loro nemici diventano i nostri nemici perché di fatto noi ci mettiamo nei panni dell'altro cioè riusciamo a riconoscere nelle esperienze dei diversi eroi le nostre esperienze di vita ed è appunto da questa risonanza che è anche risonanza motorica che viene fuori la nostra capacità di metterci nei panni dell'altro e vi dicevo che empatia è sicuramente termine greco che definiva appunto la capacità dell'attore di creare e ricreare le situazioni ma empatia è anche un termine inglese una grecizzazione che traduce una parola tedesca che è appunto questa a influence vermogen cioè la possibilità di entrare in risonanza con l'altro ora perché è importante e ne parliamo nell'ambito del sistema motorio perché fino a qualche anno fa nelle neuroscienze la nostra capacità di entrare in empatia con l'altro era legata alla ad alcune parti del cervello che costituivano quello che veniva definito come il cervello sociale cioè c'erano specifiche parti del cervello per esempio alcune parti del lobo prefrontale piuttosto che alcune parti del lobo temporale che si riteneva fossero specificamente dedicate alla relazione empatica la nostra capacità di entrare in sintonia con l'altro e perché invece tutte le cose di cui abbiamo parlato fino a questo momento cambiano la prospettiva ma perché in realtà quando noi entriamo in relazione con l'altro quello che facciamo è innanzitutto osservare le sue azioni ed è la nostra capacità di contestualizzarle e di risuonare con l'altro che di fatto ci rende assolutamente capaci anche di relazione empatica e c'è uno studio che abbiamo fatto qualche anno fa insieme a jacoboni che lavora a los angeles che ci ha mostrato tutto questo cioè cosa abbiamo detto e che cosa ci siamo chiesti in questo studio succede quando devo riconoscere il contesto e l'intenzione di un attore e senza entrare nei dettagli del paradigma sperimentale lo vedete qui ormai avete imparato a riconoscere queste aree che sono le aree del sistema motorio dove sono presenti i neuroni specchio entrare e riconoscere l'azione le intenzioni degli altri significa di fatto riattivare il sistema motorio che è quello con il quale noi raggiungiamo quelle intenzioni e siamo in grado di contestualizzare le nostre azioni e naturalmente se c'è qualcosa che non torna noi comprendiamo perfettamente se un ballerino di tango ha sbagliato una ballerina di tango ha sbagliato il passo e cade così come se vogliamo prendere della crema per idratare le mani e finiamo nel vasetto comprendiamo perfettamente che c'è qualcosa che non torna e ancora una volta però vedete che queste aree del sistema motorio ci suggeriscono che cosa sta accadendo e ci sono alcune aree aggiuntive quelle che vedete qui che sono quelle che ci dicono bene qualcosa è andato storto e il soggetto quello che ho visto non ha assolutamente raggiunto il proprio obiettivo in termini motorici che tutto questo è importante perché si è visto che ha rilevanza anche in alcune patologie senz'altro avrete sentito parlare di autismo l'autismo è una condizione nella quale si ritiene che i ragazzi già in nel corso del del periodo dell'infanzia non siano in grado di entrare in relazione empatica con l'altro e vedete ci sono questi tre cardini che ancora oggi sono considerati fondamentali stabiliti e evidenziati da baron coin qualche anno fa e nella nel nell'autismo quello che viene a mancare si dice è la incapacità la capacità di mettersi nei panni dell'altro cioè di mentalizzare ci sono evidentemente delle alterazioni nelle relazioni sociali possono esserci dei disturbi del linguaggio perché è importante parlarne e naturalmente altre caratteristiche che sono quelle legate alla marcata tendenza a sistematizzare e quindi ad analizzare in modo assolutamente dire quasi per critico oggetti ed eventi ci sono abilità insolite sapete che spesso magari hanno delle capacità matematiche che sono assolutamente brillanti e così via bene ma perché ne parliamo in questo contesto perché si è visto che una delle caratteristiche dei dei bambini con autismo rispetto alla popolazione dei bambini a sviluppo tipico è proprio la incapacità di risuonare con l'altro cioè quel sistema dei neuroni specchio di cui abbiamo parlato che ci consente di risuonare di metterci in relazione con l'altro dal punto di vista dell'attività motoria sembrerebbe essere non funzionante in modo adeguato nei bimbi con autismo e vedete qui che se voi paragonate l'esecuzione di un'azione nei tra i bimbi che hanno un problema di autismo e i bimbi normali vedete che c'è sostanzialmente lo stesso pattern cioè i bimbi eseguono tutti allo stesso modo ma quando si tratta di osservare vedete che mentre i bimbi che non presentano un problema di autismo attivano il loro sistema motorio quindi risuonano con l'altro in questo caso vedete che invece i bimbi con autismo non sembrano essere in grado di farlo cioè come se non fossero in grado di riconoscere l'azione di contestualizzarla e quindi di entrare in relazione con l'altro e che questo sia vero ce lo dice anche un altro studio dove c'era ancora un confronto tra bimbi autistici e bimbi a sviluppo tipico ma questa volta nell'interpretare le espressioni facciali perché è importante questo perché anche quando dobbiamo interpretare le espressioni facciali evidentemente noi ci rifacciamo alla motività e ci rifacciamo alle espressioni che sono legate ai diversi stati d'animo pensate a uno che sia allegro a uno che sia invece molto arrabbiato a uno che ha paura o che è triste bene noi riconosciamo queste espressioni facciali e di fatto è quello che gli attori ci suggeriscono tutte le volte che dobbiamo in qualche modo piangere o sorridere con loro per quello che ci stanno rappresentando bene quello che si è visto è che nei bambini autistici ancora una volta questa capacità di risuonare con le espressioni facciali è meno rilevante rispetto a quello che succede nei bimbi che invece hanno uno sviluppo tipico perché se fate la differenza vedete che nei bambini a sviluppo tipico si accendono quelle aree che ormai avete imparato a riconoscere nel cervello e invece nei bambini autistici tutto questo non accade e allora questo ci porta e sposta il nostro ragionamento anche alle funzioni cognitive perché è ovvio che noi siamo in grado di non soltanto di eseguire le azioni di riconoscerle ma noi uomini in particolare individui della specie umana abbiamo la capacità unica di descrivere le nostre azioni di saper descrivere le nostre azioni attraverso il linguaggio noi possiamo raccontare di maradona che tira un calcio a un pallone fa gol e possiamo gioirne anche senza avere l'azione davanti ai nostri occhi e questo perché evidentemente sappiamo e siamo in grado di riattivare nel nostro cervello quanto accade attraverso la descrizione verbale che ne facciamo e allora qual è la relazione tra linguaggio e sistema motorio? è una relazione fondamentale che è venuta fuori soltanto negli ultimi anni perché sapete che fino a qualche tempo fa il linguaggio era considerato e ancora oggi è da molti considerato come una funzione amodale che cosa significa? Significa che fondamentalmente si ritiene che il linguaggio non sia strettamente legato all'attività di una parte del cervello ma che in realtà rappresenta in qualche modo una sorta di prodotto che diventa indipendente dalle diverse strutture che lo determinano e quindi in questo senso è amodale cioè staccato da tutte le esperienze sensoriali o motorie che possono eventualmente sottenderlo e invece negli ultimi anni è venuto fuori che il sistema motorio e le esperienze sensoriali sono fondamentali anche nella comprensione del linguaggio e qualche anno fa noi abbiamo fatto uno studio che ha mostrato tra i primi una stretta relazione tra la comprensione del linguaggio e in particolare di quella di quegli elementi morfologici che rappresentano per eccellenza l'azione cioè il verbo una relazione stretta dicevo tra il sistema motorio e la nostra capacità di comprendere i verbi bene se voi fate ascoltare o se ascoltate delle frasi che esprimano azioni di mano frasi che esprimano azioni di piede o frasi che esprimano azioni di bocca quello che viene fuori lo vedete qui è che si attivano tante parti del sistema motorio che sono le stesse attive nel corso della della osservazione delle azioni queste aree le riconoscete perché le avete già viste quando abbiamo parlato della osservazione delle azioni quindi vedete che il sistema motorio ci serve anche per comprendere il linguaggio e che questo sia vero ce lo dice anche uno studio recentissimo che abbiamo svolto dove abbiamo confrontato direttamente quello che succede nel nostro cervello quando vediamo delle azioni ma anche quando dobbiamo giudicare dei verbi che esprimano delle azioni che possiamo fare con la mano oppure con il piede vedete qui il confronto diretto in questo caso utilizziamo la mano per battere su un tamburo questo caso per il piede per premere il pedale del freno e vedete abbiamo presentato anche azioni che si svolgono con la mano disegnare oppure con il piede saltare il tutto confrontato con delle immagini parole che chiameremo scrambled strapazzate in cui cioè non è più possibile riconoscere l'azione originale o parole che sono delle pseudo parole cioè sono plausibili per la lingua italiana dal punto di vista del suono ma evidentemente non hanno nessun significato e l'idea qual era l'idea era che se è vero che il sistema motorio è coinvolto in modo assolutamente paritetico nel corso del riconoscimento delle azioni come pure del processamento linguistico allora dovremmo trovare lo stesso tipo di modulazione nelle risposte che i nostri soggetti danno quando devono giudicare l'immagine osservata o il verbo e non entro evidentemente nei dettagli sperimentali ma potete credermi se vi dico che questa relazione esiste cioè che il nostro sistema motorio si comporta esattamente allo stesso modo quando giudico un'azione osservata quindi devo riconoscerla e comprenderla ma anche quando devo comprendere un verbo che esprima un'azione di mano o un'azione di piede vedete che i tempi di reazione lo vedete qui l'andamento dei tempi di reazione è assolutamente sovrapponibile sia quando l'azione viene osservata sia quando l'azione viene descritta verbalmente e questo naturalmente ancora una volta va nella direzione di un linguaggio che chiameremo a questo punto incarnato cioè un linguaggio che è strettamente legato all'attività del cervello e naturalmente vale la stessa cosa anche se consideriamo i nomi i nomi sapete fanno riferimento agli oggetti ma se ricordate nel sistema motorio ci sono anche neuroni che rispondono all'osservazione degli oggetti e allora ecco che è assolutamente sovrapponibile il tipo di risposta che i soggetti danno quando sentono una parola che esprima un determinato oggetto oppure vedono quell'oggetto e allora se facessimo questo gioco e vi chiedessi qual è secondo voi la frase o meglio qual è la situazione tra quelle che vi vengono presentate in questo caso che meglio esprime l'espressione il gatto è sul tappeto non lo possiamo fare perché siete in tanti siete in 6.000 a quanto pare però immagino che possiate provare a dare la risposta io sono sicuro che oltre il 99 per cento di voi direbbe che la situazione che esprime la frase il gatto è sul tappeto è la figura A e a questo punto immagino che siate anche in grado di sapere perché perché in realtà quella è l'immagine che esprime l'esperienza che tutti noi abbiamo di un gatto sul tappeto era il gatto della zia il gatto che abbiamo in casa ma un gatto sul tappeto certamente non si stacca da esso non è un caso che nella lingua in molte lingue si distingue chiaramente tra un su che esprime contatto no l'on e un su che invece esprime una mancanza di contatto e bav ma questo vale per la lingua tedesca vale vale in fondo anche per la lingua italiana e sicuramente non abbiamo mai visto un gatto che voli tranquillo su un tappeto nei cieli e allora quindi a dare significato alle cose è la nostra esperienza ma ricordiamoci che l'esperienza è soprattutto esperienza motorica e allora se ci spostiamo nel mondo del linguaggio astratto ancora una volta il sistema motorio ha la sua importanza vi ricordo non per tediarvi che c'era un autore che è il padre dell'empirismo inglese o comunque uno dei suoi rappresentanti più indicativi john locke che diceva che tutte le nostre idee e tutte le nostre conoscenze provengono dall'esperienza e la cosa interessante è che locke diceva che non soltanto le nostre esperienze le nostre idee concrete fanno riferimento e quindi i nostri concetti relati a situazioni concrete fanno riferimento all'esperienza fa riferimento all'esperienza anche il mondo che potremmo definire astratto e allora recentemente abbiamo proposto un modo con cui il cervello può può risolvere il problema della comprensione dei concetti astratti e quello che abbiamo suggerito è che i concetti astratti a differenza di quelli concreti abbiano una maggiore complessità che significa per il cervello avere un coinvolgimento di più parti del corpo quando parliamo di tazza evidentemente parliamo della mano perché riferiamo questo oggetto soprattutto alla mano ma quando parliamo di libertà non ci riferiamo soltanto alla mano perché la libertà può essere libertà di voto può essere libertà di parola e quindi la bocca può essere libertà di camminare nei campi come ci ci piace e quindi un'azione di piede può essere un coinvolgimento di più sistemi perché se io dico camminare è ovvio che faccio riferimento al sistema motorio e ai piedi che si muovono ma se io dico e mi riferisco al verbo piacere e allora posso parlare di qualcosa che esperisco con il gusto di qualcosa che posso fare con i piedi di qualcosa che mi può piacere da un punto di vista del tatto ma anche qualcosa che apprezzo dal punto di vista acustico un brano musicale o dal punto di vista visivo un quadro e quindi vedete che i verbi astratti richiedono una complessità che evidentemente è maggiore e che include più parti del cervello e infine i concetti astratti sono tali non perché siano staccati dalla realtà ma perché si modificano nel tempo e pensate a cos'era la libertà per voi quando avevate cinque anni magari era semplicemente avere la possibilità di poter guardare i cartoon e di poter stare e fermarsi un po più a lungo dopo il carosello oppure cos'è la libertà per voi adesso che siete adolescenti significa poter uscire la sera cos'è la libertà per voi cosa sarà la libertà per voi da adulti quando avrete una vostra situazione nel mondo del lavoro e così via la libertà cambia nel tempo ma io oserei dire cambia anche nei contesti storici pensate a cos'era la libertà per un berlinese prima della caduta del muro quel novembre del 1989 pensate a cos'è la libertà oggi per un berlinese che può muoversi tranquillamente attraverso la sua città e infine che tutto questo visto che lo ha ricordato la professoressa fazzi all'inizio dei nostri lavori comuni nella riabilitazione ricordiamoci che osservare attentamente può essere anche un modo per imparare cose nuove o per rieducare le persone che invece per qualche ragione hanno perso la capacità di muoversi e lo facciamo con l'action observation treatment che come vedete ha avuto varie applicazioni in diverse condizioni cliniche questa action observation treatment questo trattamento basato sull'osservazione delle azioni è anche particolarmente attuale perché si presta anche all'utilizzo e all'applicazione attraverso le nuove tecnologie che anche questa pandemia un po' ci ha reso ci ha reso abituati ad usare quindi volevo chiedergli un commento su questo e un secondo aspetto poteva essere legato a questo tema del rapporto dell'immaginazione motoria con questo sistema dei neuroni mirror e quindi se anche su questo poteva farci qualche considerazione no quindi come funziona l'immaginazione del movimento in relazione al sistema motorio nel bambino normale nel soggetto normale anche nel bambino con patologia e beh io ringrazio elisa perché naturalmente il problema è molto attuale e noi devo dire abbiamo anche un po contribuito no nel senso che abbiamo pubblicato uno studio insieme che ha mostrato come nei bambini per esempio si possa utilizzare l'osservazione delle azioni come pratica riabilitativa anche a distanza e questo naturalmente in un periodo come questo dove spesso non è possibile raggiungere i centri di riabilitazione è un fatto di grande rilevanza soprattutto per quei bimbi che hanno bisogno della riabilitazione e d'altra parte questa è una cosa che può essere tranquillamente applicata anche negli adulti attraverso i sistemi telematici che abbiamo a nostra disposizione quindi questo è sicuramente un dato molto 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 interessante l'altro aspetto sull'immaginazione motoria è un problema abbastanza antico quello di verificare se per esempio quando si hanno dei disturbi motori si perda anche la capacità di immaginare le nostre azioni e direi che mentre nel passato l'idea di fondo era che tutte le volte che c'è una patologia che in qualche modo colpisca il sistema motorio c'è anche una incapacità di immaginare l'azione e questo resta fondamentalmente vero nell'adulto ma abbiamo dei dati recenti che abbiamo peraltro insomma raccolto insieme che invece suggeriscono davvero una prospettiva diversa per i bambini dove anche quando ci sono delle patologie importanti che possono avere conseguenze sulla capacità motorica degli stessi in realtà rimane la capacità di immaginare e questo naturalmente ha un'enorme importanza perché significa anche poter sfruttare poi questa capacità a fini riabilitativi per cui ti ringrazio della domanda e in qualche modo i dati che abbiamo raccolto insomma vanno in una direzione che secondo me è estremamente promettente le domande che vorrei fare molto velocemente sono in realtà tre la prima vorrei chiederle se è possibile individuare durante la filogenesi pressa poco il momento in cui compaiono i neuroni specchio che sono così importanti per la diffusione orizzontale della cultura l'altra è invece sapere quando si chiude la finestra temporale a causa della maturazione cerebrale qui nel processo di melianizzazione e taglio delle sinapsi che consente di sfruttare le opportunità che i neuroni specchio danno per la comprensione quindi l'apprendimento del linguaggio della lingua madre della cultura generale di certi comportamenti essenziali in quanto a l'embertos nel suo ultimo saggio dice giustamente credo che è criminale non consentire ai bambini durante il loro sviluppo di partecipare a tutte le opportunità di conoscenza apprendimento nel momento giusto in quanto gli si va a meno mare fisicamente e in in tale l'ultima perdono poi che mi fermo è sapere lei è arrivato alle idee astratte e in quanto insomma frequentatore un po della pensiero filosofico della teoretica le chiederei se è possibile andare ancora più in là cioè immaginare che nella identificazione della elaborazione concettuale del pensiero ci possa essere una attivazione motoria ecco anche e quindi nella possibilità di confronto critico con le idee di altri e se possono intervenire in quanto anch'io avrei scritto poi un piccolo saggio che è le neuroscienze all'origine scienze umane e che è un po parallelo mi consenta quello che lei ha osservato anche con i pensatori del passato che già avevano anticipato ecco anche io ho cercato di fare una piccola carellata di degli autori che avevano con la loro intuizione ecco si erano riusciti a accogliere cose che poi sono state confermate ecco dalla risonanza magnetica allora vado nell'ordine inverso di presentazione delle domande parto da quest'ultima e direi che ci stiamo dedicando proprio allo studio degli aspetti neurali e questo è assolutamente insomma è una sfida ma è una sfida che come dire che accetto volentieri di andare alla ricerca delle basi neurali del linguaggio astratto perché sono convinto davvero un po con Locke che non esiste il linguaggio astratto non fosse altro per il fatto che la nostra esperienza del mondo è un'esperienza che è in qualche modo legata al nostro cervello e allora da questo punto di vista sicuramente penso che si tratti di individuare dei percorsi che ci consentano di vedere nel cervello quelle che chiamiamo abitualmente rappresentazioni astratte la libertà è nel cervello come nel cervello la democrazia piuttosto che la pietà il problema è appunto avere gli strumenti per farlo tra l'altro abbiamo scritto proprio recentemente una meta analisi in cui cominciamo forse per la prima volta a individuare anche gli studi che hanno evidenziato come di fatto alcune parti del cervello siano esplicitamente legate anche alle rappresentazioni astratte secondo punto i bambini e la loro esperienza e quindi la seconda domanda io direi che i bambini hanno sicuramente diritto a fare le loro esperienze nelle fasi in cui questo in qualche modo è giusto che avvenga però ecco al tempo stesso credo che le neuroscienze aprano da questo punto di vista nuove prospettive nel senso che il vecchio adagio non è mai troppo tardi per imparare forse è più che mai oggi vero e questo credo che in qualche modo implichi da parte nostra il dovere di fornire lei ha parlato dei bimbi e quindi giustamente parliamone di fornire ai bimbi le tutte le chance di cui hanno bisogno per un corretto sviluppo da qualunque punto di vista lo si voglia esaminare però significa anche che oggi le neuroscienze forse ci indicano un percorso che può anche non fermarsi in un periodo critico non c'è una fase che in qualche modo ti determina e poi in qualche modo il cervello ti abbandona il cervello è sempre lì pronto ad accogliere nuovi stimoli e quindi mi sembra giusto dare opportunità sempre anche quando voglio dire la vita insomma a volte ci dà delle regole diverse l'altro aspetto il prima la prima domanda la filogenesi al momento non ci sono studi che identifichino in modo chiaro il momento in cui un meccanismo di risonanza specchio viene fuori chiaramente gli studi che ho riferito sono stati eseguiti nell'animale ma nelle scimmie che evidentemente filogeneticamente sono molto vicine a noi però per esempio ci sono studi anche in in animali molto lontani da noi che evidenziano come ma questo parlo anche di di ratti che evidenziano come per esempio i modelli possano facilitare alcuni percorsi di apprendimento il che lascia pensare che se non un meccanismo specchio quantomeno una capacità di risonanza minima con l'altro esiste anche in in individui molto lontani da noi dal punto di vista filogenetico la mancanza di empatia vista con l'autismo ha lo stesso concetto delle malattie neuropsicopatologiche un'altra classe chiede eravamo curiosi di sapere se le persone sociopatico affette da disturbi relativi all'empatia possono essere curati e trasformati in soggetti empatici o solamente guidati attraverso percorsi cognitivi per cui pur non provando empatia mantengono un comportamento socialmente accettabile c'è una possibilità di abilitare o esercitare i neuroni specchio nei ragazzi autistici perché alcune persone hanno maggiore empatia rispetto ad altre i neuroni specchio possono essere allenati o riabilitati che cosa attivano come mai i testi in adozione nei licei risultano arretrati rispetto agli studi condotti in quest'ottica più senso per l'apprendimento proporre un sistema scolastico maggiormente improntato sulla pratica stile quello anglosassone i neuroni a specchio si attivano anche con altri sensi oltre alla vista in che misure i neuroni specchio hanno contribuito nell'evoluzione dell'uomo il sistema specchio è qualcosa di innato si sviluppa in un preciso momento della crescita ci sono altri disturbi oltre all'autismo che derivano da una ridotta attività cerebrale nei confronti dei neuroni specchio oltre al cane al gatto i neuroni specchio si trovano in altre specie quali applicazioni potrebbero avere in campo medico queste scoperte a questo punto potremmo dire che immaginare il movimento è più faticoso che eseguirlo la memoria di una sensazione passata può tornare anche a distanza di tempo nel caso della perdita di un arto i neuroni specchio sono comunque attivi lo sviluppo di questi neuroni è dovuto alla plasticità neuronale se sì in che modo è coinvolta siamo in grado di agire con volontarietà su determinate azioni che il contesto sociale ci impone come determinate norme dovute al linguaggio ai gesti al modo di fare le persone cieche dalla nascita come fanno a immaginare e visualizzare l'azione la capacità di funzionamento dei neuroni specchio varia con l'età che relazione c'è tra cnv e comunicazione verbale poiché la prima è più immediata e profonda e non facilmente traducibile in parola in un neonato i neuroni specchio sono già presenti attivi o si devono formare attivare abbiamo visto la correlazione tra neuroni specchio autismo in caso di sinestesia o sindrome di asperger com'è si comporta in modo diverso quali sono i meccanismi per cui vi sono differenze tra le specie per i neuroni specchio cosa accadrebbe se riuscissimo a sbloccare il cento per cento del nostro cervello e infine secondo lei la teoria dei neuroni specchio potrebbe essere legata o confermare in qualche modo la teoria del desiderio mimetico dell'antropologo girar spero di raccoglierle un po per gruppi perché chiaramente non sono picco della mirandola e non posso ricordarle tutte però mi sembra che possano essere in qualche modo raggruppate allora dal punto di vista filogenetico in parte risposto al professore che faceva le domande prima non esistono dati in questo momento che indichino chiaramente in quale momento della filogenesi e quindi considerando i diversi individui che di volta in volta appaiono nella nella scala filogenetica in quale momento effettivamente si può parlare chiaramente di un meccanismo di risonanza sporadicamente lo dicevo anche prima sono stati individuati anche in individui molto lontani da noi dal punto di vista filogenetico degli elementi che fanno pensare a un meccanismo di risonanza che sia attivo i ratti che per esempio guardando in qualche modo imparano il fatto che per esempio un ambiente arricchito possa in qualche modo talvolta far superare delle difficoltà da alcuni individui questo si vede già in animali molto lontani da noi dal punto di vista filogenetico il che lascia pensare che meccanismi di risonanza siano già attivi è chiaro che è difficile ripeto parlare di un meccanismo specchio così come l'abbiamo definito nel corso di questa relazione secondo gruppo di domande mi sembra che riguardasse soprattutto gli aspetti applicativi compresi quelli nelle pratiche educative e lì devo dire che secondo me hanno ragione gli studenti che tutto sommato questi studi delle neuroscienze riconducono la necessità di riportare il dibattito a uno studio che sia in qualche modo più legato all'esperienza ma non soltanto perché in qualche modo esperire significa di fatto avere conoscenza del mondo ma perché di fatto valorizza a mio parere la dinamicità la motricità come modo anche di interagire questo in classe come fuori dalla classe e d'altra parte abbiamo provato anche un po a suggerire questa cosa occupandoci per esempio di seconda lingua e di apprendimento della seconda lingua abbiamo sottolineato proprio in un capitolo su un testo dedicato a questi argomenti e quindi anche alla didattica delle lingue come in realtà sia fondamentale nell'apprendimento della seconda lingua ma questo può valere per qualunque disciplina una relazione empatica in classe soprattutto una dimensione esperienziale che venga sempre valutata cioè l'esempio che facevamo nel nostro capitolo era proprio questo cioè è difficile parlare di un breakfast quando si studia l'inglese se in qualche modo non è acclarata l'esperienza di colazione e allora soprattutto in un mondo che sta diventando molto aperto e molto ampio dove insomma è facile ritrovare in una stessa classe bambini o studenti che hanno provenienze diversissime forse l'esperienza diventa ancora di più fondamentale perché è quello che realmente ci accomuna cioè l'insegnante in qualche modo deve anche verificare che le esperienze da cui si parte sono esperienze in qualche modo condivise e condivisibili perché è difficile parlare di un bacon and eggs piuttosto che no di di fagioli o altro se in qualche modo non è chiara e non è comune l'esperienza di colazione e vale è una banalità ma vale per tante altre cose per cui come dire si tratta di riappropriarsi di quelli che sono e che vengono spesso definiti i prerequisiti che sono poi condivisione di esperienze all'interno delle quali poi si può sicuramente etichettare imparare il linguaggio imparare la grammatica o quant'altro però sicuramente l'esperienza è fondamentale d'altra parte ricordo una delle prime volte che ho presentato questi argomenti in una facoltà di scienze motorie a zagabria un docente insomma di quella facoltà mi ha fatto notare l'importanza dell'osservazione nella pratica educativa come nella pratica sportiva è fondamentale perché per esempio quando sono arrivati in europa i maestri delle delle discipline orientali no i vari judo karate o quant'altro non hanno mai perché non conoscevano la lingua spiegato qualcosa quello che gli studenti dovevano fare era osservare 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 e mi verrebbe da dire forse andrebbe ribaltato anche il vecchio adagio che che non bisogna copiare in realtà noi tutti impariamo copiando il problema semmai e dare come dire delle delle modalità di con cui bisogna copiare perché è chiaro che bisogna farlo in modo acuto bisogna farlo in modo intelligente bisogna direi insegnare a copiare nel modo giusto però noi tutti abbiamo tutti noi abbiamo avuto dei modelli i nostri maestri erano delle sono state persone che che abbiamo cercato di copiare in qualche modo e quindi questo secondo me anche in ambito pedagogico cambia molto la prospettiva in ambito clinico sicuramente perché ricordavamo con la professoressa fazzi ormai sono tantissimi gli studi che dimostrano come per esempio una osservazione sistematica delle azioni può portare a un recupero motorio nei bambini questa è una cosa evidentissima noi abbiamo fatto vari studi con con elisa nei bimbi con paralisi cerebrali infantili ma credo che questo possa avere e speriamo di poterlo fare magari ci ritroveremo fra qualche anno a riparlarne ma per esempio nell'autismo secondo me questo può avere una grande valenza cioè imparare ad osservare può essere anche un modo per recuperare quella funzione esperienziale ed empatica che in questi bimbi spesso è carente deficitaria e penso di aver preso tutti i punti a ecco no un ultimo punto invece era quello dell'ontogenesi del sistema perché molti ragazzi chiedevano in che fase della vita si sviluppa e quando vengono fuori beh anche questo è un problema aperto perché chiaramente non sappiamo ancora se i neuroni specchio sono già predisposti alla nascita o se invece alcuni studi suggeriscono che sin dalle primissimi momenti della vita un neonato è in grado di entrare in relazione empatica motoricamente in risonanza motorica con l'altro ci sono gli studi classici di melzoff che fanno vedere come già i bimbi nella primissima fase della vita siano in grado in qualche modo di riprodurre alcune espressioni del genitore o comunque di chi in quel momento si prende cura del del bimbo e poi naturalmente questo è vero anche nel corso del tempo e definire in questo momento qual è il periodo della vita in cui l'apprendimento per risonanza o comunque questa capacità di entrare in risonanza con l'altro si ha già completamente sviluppato direi che non abbiamo gli elementi per dirlo e la mia sensazione che in realtà sia un processo che poi continua per tutta la vita in realtà il nostro cervello è predisposto ad accogliere esperienze motoriche e forse il segreto direi anche nella nella terza età è quello di non smettere mai di essere curiosi e di esperire il mondo uno studio recentissimo che abbiamo fatto in collaborazione con il dognocchi di milano ci ha fatto vedere come in realtà la capacità di risuonare motoricamente nell'anziano fa la differenza tra chi è in una fase o si avvia al decadimento cognitivo e chi invece è ancora in grado di ricevere stimoli dalla realtà esterna e quindi continuare a risuonare con gli altri è fondamentale anche per non invecchiare e ripeto questo studio ci ha detto chiaramente che per esempio la capacità del sistema dei neuroni specchio di risuonare è presente ancora nell'anziano ma è presente in modo direi differenziale tra chi ha mantenuto in qualche modo la sua riserva cognitiva e chi invece ha emessi avvia verso il decadimento cos'è la plasticità cerebrale come influenza al recupero dopo aver subito un trauma le persone non empatiche possono essere aiutate e cosa si può fare nel caso di un soggetto che un soggetto sia tra traplegico dalla nascita i neuroni specchio si attivano volevamo chiedere se i neuroni specchio si attivassero attraverso l'osservazione di atti antisociali come le aggressioni ci sono persone che nascono con un cervello maggiormente predisposto all'empatia cosa accadrebbe se riuscissimo a sbloccare il 100 per cento del nostro cervello come definibile l'io dalle neuroscienze esiste una possibile relazione tra serial killer e neuroni specchio i neuroni specchio sono gli stessi che si attivano quando compiamo un movimento sono neuroni diversi della stessa area in ambito artistico spesso si ritiene il copiare sbagliato ma pari al suo è possibile creare qualcosa di totalmente nuovo detto subito che naturalmente i neuroni specchio non risolvono tutti i problemi sicuramente ci hanno consentito di aprire in qualche modo uno squarcio nel mondo della cognizione che ripeto fino a qualche anno fa era considerato come legato ad aree del cervello le cosiddette aree associative che in qualche modo erano le aree superiori direi che la scoperta dei neuroni specchio ha contribuito enormemente a considerare la cognizione più vicina anche più aggredibile da un punto di vista scientifico nel senso che oggi cominciamo a pianificare degli esperimenti che in qualche modo ci fanno vedere un po più da vicino i vari meccanismi ora in generale la mia opinione ma questa evidentemente è soltanto la mia opinione la mia sensazione è che la nostra capacità di empatia come molte altre nostre capacità può essere educabile e che sicuramente la capacità di mettersi nei panni dell'altro come dicevamo è qualcosa che può essere in qualche modo se non completamente imparata quanto meno guidata e quindi questo significa che nella scuola piuttosto che nelle realtà che viviamo quotidianamente in qualche modo dovrebbe esserci anche una maggiore attenzione alla educazione in qualche modo all'empatia perché secondo me ci sono gli estremi per pensare che il nostro cervello in qualche modo riesca a ripeto modificare alcuni comportamenti e questo vale nelle situazioni patologiche dove effettivamente questa mancanza di empatia è quasi un marker tra virgolette di malattia sia nelle condizioni in cui invece evidentemente non c'è un un una patologia da descrivere ma può essere effettivamente una maggiore o minore predisposizione degli individui è chiaro che affrontare questi discorsi non è cosa semplice e in qualche modo non è possibile pensare o per lo meno in questo momento io credo che non ci siano sufficienti dati scientifici per dire ecco lo facciamo non lo facciamo sicuramente per esempio a proposito dell'autismo ma questo insomma con la professoressa fazzi ne abbiamo già discorso il l'autismo secondo me si presta è una di quelle patologie che si presta per esempio a un processo di rieducazione che sia basato appunto sulla osservazione delle delle azioni e sulla in qualche modo sulla capacità di entrare in empatia con l'altro attraverso tutta una serie di esercizi e di training che in qualche modo sono possibili c'era ancora una domanda che a proposito della sulla aggressività ecco e qui penso che siamo ricondotti un pochettino al problema generale dell'apprendimento dell'empatia è ovvio che insomma quando ci sono casi di bullismo piuttosto che situazioni in cui l'aggressività è particolarmente forte probabilmente il problema non è unico non è soltanto nel cervello a volte come dire ci portiamo dietro esperienze che possono essere traumatiche e che in qualche modo possono anche spiegare alcune situazioni sicuramente credo che ancora una volta valga anche per queste situazioni il fatto che ci possa essere un recupero cioè io credo che le neuroscienze oggi dicano chiaramente che c'è la possibilità di procedere ad una rieducazione cioè che la pratica educativa in qualche modo ha delle chiare implicazioni nei neuroni e che sfruttarle appieno significa poi rendere un vantaggio anche a tutte le situazioni che possono essere difficili insomma ecco compresa quella dell'aggressione io credo che anche in questo caso un recupero della capacità di guardare l'altro possa essere fondamentale e quindi anche nelle situazioni ma ripeto lì davvero sono felice di dire che stiamo affrontando questo problema con un collega pedagogista dell'università del salento e ci stiamo proprio occupando di questa capacità di recuperare l'esperienza motorica in chiave educativa e questo a 360 gradi perché osservare l'altro significa anche riconoscere le situazioni nelle quali l'altro ha bisogno questo naturalmente però richiede anche un occhio attento per parafrasare insomma di gabbo e gli occhi fanno quello che possono ma insomma a guardare siamo noi e allora se ci educhiamo a guardare e a osservare le situazioni probabilmente anche queste queste situazioni di aggressione in famiglia piuttosto che a scuola probabilmente possono essere affrontate in modo diverso secondo lei come definibile l'io dalle neuroscienze va detto subito che il linguaggio psicanalitico qui adesso non vorrei entrare però indubbiamente come dire riesce ancora difficile da spiegare in termini neurali non si tratta di essere come dire a favore o contrari la psicanalisi ha aperto mondo la psicanalisi ci ha aiutato a capire noi stessi e a capire il mondo però indubbiamente bisogna riconoscere che a tutt'oggi non è come dire del tutto semplice spiegare in termini neurali l'approccio psicanalitico e allora se costruzione dell'io significa in qualche modo arrivare ad una consapevolezza allora io credo che in qualche modo le neuroscienze al giorno d'oggi sono in grado di suggerirci qualche passaggio chiave se invece come dire la costruzione dell'io fa riferimento più specificamente a categorie psicoanalitiche allora credo che il lavoro sia ancora tutto da fare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti